Come stai? E' la frase, un esordio nel mondo Che ho intorno Tutto bene Ho una casa e sto lavorando Ogni giorno Cosa voglio che dica? Cosa voglio farvi? E' il mutuo Il pensiero peggiore del mondo Che ho intorno Da soffisso Con le univo c'è chi Sta impazzendo Da un anno Che cosa vuoi che scriva? Che cosa vuoi che canti? Di come grande il mare La cosa è notare Di come crescere è tale Senza il mio padre Il calcio è la sola religione Nel mondo Che ho intorno Una pizza Una birra Pantre 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 Cambiano le cose Forse dentro me Cambiano le cose Dentro il mio giardino Nascono le rose La na... La na 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 La na 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 La na 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 ... La na 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 Come stai? E' la frase che sordi nel mondo Pronto Non ho più voce dopo tre giorni ma è una cosa voluta Credo che questo effetto quando facciamo un concetto di questo tipo di vetrina mi piace fare vedere che sono senza voce Ok